Siamo in un comitato di benvenuti, sono per caso vostri amici, credo che il vostro amico, credo che il giubbacca voglia che rimettiate alle armi primarie, sembra molto impegnato nel tentativo di attivare il diperguido, è dopo poco che non veniamo revisionati, per sicurezza, credo che dobbiate andare subito alle torrenti, per aprire il fuoco basta posizionare il diritto sopra un messaggio, si termine l'arma per siano al progetto, spingete in avanti per lanciare un minatoidze, inoltre dovete eliminare tutti i numerosi nemici, non abbattate a non speccarle, cerchiamo di quantità limitata, capisco che non ci occorre le altre. Maestro Giubbacca, mi comunica che l'interguida di questa nave necessita di riparazione. Per quanto è sicuro? Per quanto è sicuro? Per quanto è sicuro, I genni se l'abbiamo regolato bene, ma non so per quanto accuracy. Per quanto è sicuro... Questi grandi navi da quella sono armate con torrenti laser che ci faranno a perdere, se non ne entra siamo subito. La mia guida è guante, riparte, continuate con me. Maestro Giubbetti cercherà di superare le navi dei loro laser, ma non ci dovessi fare le mie caccia. La Tiglis sta lanciando dei missili, non ci hanno distruzione, spero che raggiungano la nave. Grazie! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.